Mi presento, sono Luca Pagliai, corro nella categoria senior champion kart, questo è il terzo anno che corro con loro e mi trovo, come mi trovo in questa categoria, mi trovo abbastanza bene, è una categoria competitiva e soprattutto che ci consente di avere dei costi abbastanza contenuti. Come vedo il livello della categoria senior, lo vedo quest'anno soprattutto ancora di più, molto più competitivo, sono aumentati il numero dei piloti e si sono avvicinate le distanze in termini di decimi tra il primo e l'ultimo, quindi è aumentata e ogni gara, a parte i veri piloti che devo dire che non mancano mai, tipo il Lucchese, Ettore Lobue, Cavini, Pelanconi, c'è sempre tanta alternanza di posizioni durante tutte le gare e questo è positivo per la battaglia per poi alla fine dei punti del campionato. Diciamo che quali sono le previsioni per la gara di oggi e di domani, questa è una bella domanda anche perché da quando corro un champion kart non sono andato mai così male, quindi praticamente non è il giorno adatto, però spero che dopo in gara qualcosa come sempre cambia, come quando magari fai bei tempi il giorno di prova e le qualifiche, poi vai male in gara, spero che oggi succeda il contrario, ovvero il tempo bruttissimo, qualifiche e poi in gara vada meglio, quindi mi auguro di stare perlomeno tra quinta e decima posizione. Saluto tutti gli spettatori e tutti i piloti e tutti quelli che accorrono sempre nel paddock, le famiglie, i genitori, ciao!